Abbiamo percorso via Zurlini e siamo arrivati qui, proprio in fondo, e come potete vedere c'è scritto Associazione di Volontariato per la lotta e la valentia cardiovascolari, vale a dire, qui c'è la sede degli Amici del Cuore e vicino a me vedete il professor Giovanni Spinella che è presidente di questa associazione e non soltanto, anche di Conacuore a livello nazionale. Allora, professor Spinella, oggi è una giornata molto particolare perché all'interno di questa sede ci sono professori, ci sono dottori, ci sono volontari perché oggi ci parleremo e lo faremo comprendere anche alle persone che ci stanno ascoltando del fondo Pricam che voi avete naturalmente promosso ma sicuramente ci saranno persone che non sanno che cos'è. Io prima di entrare dentro e di incontrare gli altri ospiti vorrei che lei ci fornisse questa indicazione, come nasce l'idea del fondo Pricam e che cos'è. Beh, l'idea del fondo Pricam nasce con la nascita dell'associazione e a statuto c'è scritto che noi daremo borse di studio alla società modenese, agli studiosi modenesi. Detto questo, Pricam vuole dire promozione, ricerca, cardiovascolare, modenese. Il ritardo è dovuto al fatto che dovevamo prima trovare il modo di accumulare un po' di quattrine, senza i quali non si fanno borse di studio. Oggi celebreremo la consegna degli assegnoni, come dire, immaginifici che sono la caratteristica, diciamo così, di ogni buon inizio. Gli amici del cuore sono quelli che fanno la raccolta dei fondi, il fundraising come viene chiamato. Chiamando a questa impresa ardua i comuni cittadini, le istituzioni, a partire dall'università, dalle aziende sanitarie, dalla confindustria modenese, dalle banche che ci hanno finora finanziato, dai tanti privati cittadini che ci hanno creduto in questa impresa qua. Questi assegni quanto montano? 120.000 euro biennali per le tre borse di studio. Oggi consegneremo due assegni. La terza borsa di studio verrà data quando l'istituzione AUSL ci darà il nome del ricercatore. All'interno però ci sono rappresentanti anche di altre associazioni. Andiamo ad incontrarli? Andiamo ad incontrarli, con entusiasmo. La professoressa Renata Ferrari è la presidente di Alice, un'associazione di volontariato che è nata, tra virgolette, recentemente. Non è così, diciamo, presente nel territorio come quella degli amici del cuore, ma è importantissima perché anche loro si stanno dando molto da fare nel nostro territorio ricco di associazioni di volontariato. Il vostro impegno riguarda che cosa? Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la cultura della prevenzione e quello di assistere anche le famiglie, i pazienti e le famiglie che sono stati colpiti da ictus. Un altro aspetto importante da ricordare è che l'ictus comunque è una patologia vascolare perché interessa appunto la circolazione del cervello. Quindi noi abbiamo accolto molto volentieri questa proposta degli amici del cuore di supportarli in questa loro campagna di promozione del finanziamento della ricerca perché noi pensiamo che la ricerca in generale sulle malattie cardiovascolari abbia anche una buona ricaduta sulla ricerca anche di problemi legati all'ictus sia per quanto riguarda la prevenzione che per quanto riguarda la cura della patologia. Adesso sentiamo dire che la ricerca è costretta ad espatriare, andare all'estero, invece qui abbiamo delle persone molto valide, degli studenti, degli studiosi che si impegnano, no? Questo è un fondo importante. Sì, un fondo importante perché anche noi abbiamo dato la nostra disponibilità a svolgere un'attività nei confronti dei privati che mettano a disposizione delle risorse finanziarie da destinare alla ricerca. Noi abbiamo aderito perché come associazione dei donatori volontari di sangue della provincia di Modena siamo particolarmente interessati agli aspetti collegati alle eventuali patologie del cuore perché queste non consentono di fare le donazioni. Attraverso il controllo costante siamo in grado di mettere in condizione i cardiologi di intervenire nei loro confronti. Il professor Sebastiano Calandra è il coordinatore scientifico del fondo Pricam. Noi naturalmente ne abbiamo sentito parlare, prima ci hanno spiegato il fondo Pricam che cos'è. Io vorrei arrivare un po' al punto, professore, e sapere come vengono quindi selezionate le persone che arrivano alla vostra attenzione. Beh, innanzitutto è un bando pubblico, quindi chiunque può partecipare alla chiamata presentando un progetto di ricerca che riguarda le malattie cardiovascolari. Nel caso specifico, in questa prima esperienza, sono stati presentati nove progetti, tra loro molto eterogene in termini di temi affrontati. Ora, a fronte di questo problema, il comitato ha deciso di fare esaminare, fare valutare questi progetti da degli esperti esterni che sono rimasti anonimi. Cioè, le persone che presentavano il progetto non sapevano quale sarebbe stato il giudice valutatore del progetto. Ogni progetto è stato valutato da due esperti esterni, i quali hanno mandato una relazione sul progetto e un punteggio sui diversi aspetti che il progetto affrontava. Sulla base del punteggio assegnato, il comitato poi ha fatto un confronto e i due progetti che sono risultati a maggiore punteggio sono quelli che sono entrati automaticamente nell'elenco dei vincitori. Poi è stato recuperato a un terzo progetto perché il Presidente è riuscito a trovare ulteriori fondi quindi alla fine siamo arrivati con tre progetti selezionati a livello nazionale da esperti qualificati. Professore, le posso fare una domanda personale. Per lei, professore universitario conosciutissimo non soltanto nella nostra realtà, che cosa ha significato mettersi in campo per questo fondo Pricam? Ha significato sostanzialmente continuare a giocare, continuare a fare quello che normalmente si dovrebbe fare a livello dell'università, cioè sottoporre a una valutazione che superi i possibili conflitti di interessi tutto ciò che viene fatto, dalla didattica alla ricerca all'attività amministrativa, tutto quello che riguarda la vita dell'università.